Bella Free Guiders arrivano importantissime notizie dagli Emirati Arabi Uniti che vi andiamo a leggere dunque è stata varata, mandata in gazzetta ufficiale questa domenica, quindi due giorni fa un emendamento, una legge, chiamiamolo come vogliamo, comunque è in gazzetta ufficiale quindi è ufficiale, è già in vigore, che magari scaduti i giorni di passata in vigore comunque è in vigore ed è ufficiale, non si può più cambiare la pena per il trasporto e il possesso di cannabis estratti eccetera eccetera per uso personale in piccole quantità non sarà più reato, non sarà più penale e i prodotti verranno soltanto sequestrati e distrutti dalle forze dell'ordine questo appunto negli Emirati Arabi Uniti è già in vigore, come detto è fondamentale questa cosa la pena invece per il trasporto e commercio, la venta eccetera eccetera per la piccola quantità e per la prima volta, passa da due anni come era oggi per la prima condanna e da domani saranno soltanto tre mesi di condanna, la minima condanna insomma veramente importante questo abbassare la pena e iniziare ad andare incontro anche perché gli Emirati Arabi erano veramente uno Stato con una legislazione veramente pesante e contraddittoria sulla cannabis e quindi davvero dove veniva penalizzato qualsiasi tipo di uso personale ci sono storie assurde anche americane che là per uso personale poi processati ancora in corso, situazioni davvero davvero incredibili e questa quindi è una notizia importante, ricordiamolo è in vigore da domenica e probabilmente entrerà in vigore vediamo dal 2 gennaio ufficialmente quindi appunto il tempo saranno i classici 30 giorni per mandarla in vigore e i non cittadini degli Emirati Arabi Uniti non verranno più automaticamente espulsi per il possesso personale cosa che invece accadeva praticamente per i turisti che venivano accolti su questa situazione sono dei cambiamenti essenziali certamente uno dirà vabbè allora non è che è diventato legale no però sicuramente si va in quella direzione in un paese dove era veramente veramente penalizzato l'uso personale il possesso personale questo è fondamentale quindi seguiamo anche questo avanzamento veramente internazionale che va verso la depenalizzazione, la decriminalizzazione la desanzionalizzazione di questa situazione fondamentale di uso personale possesso poi vedremo come si evolverà anche per la coltivazione personale negli Emirati Arabi perché non ci giunge ancora niente e chiaramente rimarrà fortemente fortemente penalizzata purtroppo Bella Free Withers ci vediamo presto con un nuovo aggiornamento Fino alla libertà Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!